Ciao! Nel video di oggi farò un approfondimento sul tema dello Zugzwang applicato nei finali di pedoni. Nel video precedente, relativo alla partita mortale dello Zugzwang, avevo già parlato di Zugzwang e avevo detto che è la condizione che si realizza quando chi ha il tratto ha mosse che gli deteriorano la posizione, quindi non vorrebbe muovere e quindi è una condizione svantaggiosa. Nel precedente video avevo fatto vedere come nella partita giocata da Nizovic lo Zugzwang si era venuto a creare in posizione con tanti pezzi. Oggi vediamo il tema sempre dello Zugzwang nei finali pedoni in cui è presente molte situazioni. L'altra volta già avevo parlato di Zugzwang reciproco, come vediamo sopra di me, nei due diagrammi, sono queste due posizioni che al tratto si trova in Zugzwang e perde il pedone. Quindi nella posizione sinistra se tocca al bianco deve allontanarsi dalla difesa del suo pedone e il nero gli mangia il pedone, quindi perde il pedone, perde la partita. In viceversa, allo stesso modo, se toccassi al nero, il nero non ha mosse utili, lui vorrebbe star lì, ma è costretto a muovere e deve allontanarsi dal pedone, il bianco mangia il pedone e vince. Stessa cosa accade con il diagramma di destra in cui anche qua entrambi i re difendono il loro pedone, attaccano il pedone avversario. A chi tocca la mossa, quindi se tocca al bianco, deve allontanarsi dalla difesa del suo pedone e il re nero mangia il suo pedone e viceversa se tocca al nero, il nero deve allontanarsi, il re bianco mangia il pedone. In quel caso qua di destra la perdita del pedone non è sufficiente, non sarebbe sufficiente a portare la vittoria al bianco, ma è comunque porta al vantaggio del pedone. Adesso vediamo sulla scacchiera di sinistra una posizione in cui il tema dello Zuzwan deve essere attenzionato dal bianco che al tratto. Vediamo subito che se il bianco in questa posizione qua giocasse in modo inaccurato re e sei perderebbe la partita perché dopo re e sei il nero andrebbe nella posizione che abbiamo visto sul diagramma di sinistra di Zuzwan reciproco, la mossa quindi è al bianco si trova in Zuzwan, deve muovere, perde il pedone e perde la partita, quindi si allontana, perde il pedone e perde la partita perché il nero riesce ad arrivare davanti al pedone in sesta e spinge e vince facilmente la posizione. Mentre il bianco deve giocare re e sette perché a questo punto se il nero gioca re c5 è il bianco che raggiunge la posizione vantaggiosa di Zuzwan reciproco con mossa al nero e quindi il nero che si trova in Zuzwan deve quindi per avendo il tratto deve allontanarsi dal pedone, a questo punto il bianco mangia e a facilità di vittoria. Un'alternativa che poteva fare il nero dopo re e sette nel bianco e cercare di andare in C7 ma anche in questo caso perderebbe la partita perché il pedone è in quinta e il re è davanti al pedone, quindi qua si vince anche senza opposizione in questo modo e quindi è vinta. Adesso vediamo di complicare un po' la posizione. Mi rifaccio una partita giocata in passato da Smith contro Nelson nel 2009. Vediamo un attimo la posizione che si è realizzata sulla scacchiera che è questa, quindi la partita, la posizione raggiunta notevole è questa, ci sono un po' di pedoni e a questo punto la mossa è al bianco e il bianco ha vantaggio e ha concepito tra le mosse che gli portano da prendere in considerazione per vincere la partita, ha pensato sostanzialmente a due scenari, una di spingere il pedone che obbliga di fatto il nero a mangiare e il re si troverebbe in F5 con l'idea di andare a mangiare il pedone D5 e l'altro scenario è quello di andare a mangiare con il re il pedone H6 e dopodiché il nero mentre il bianco mangia nel pedone H6 il nero si rivarrà sul pedone D4 e bisogna calcolare quello che accade con i pedoni H del bianco e D5 del nero che andranno a donna e si entreranno a finale di donna soffermiamoci un attimo adesso sulla prima variante che è quella di spingere il pedone e a questo punto vediamo cosa ha dovuto valutare Smith che tra l'altro è la mossa che ha giocato e che fa rientrare in ambiti in cui lo Zuzwan svolge un ruolo importante perché dopo il pedone spinta il pedone E6 mangia, il re mangia F5. A questo punto immaginate il re in F5 il nero deve andare a mangiare il pedone D4 o A4 e quindi giocherà re B5. A questo punto come nell'esempio che abbiamo visto prima il bianco deve chiedersi se gli conviene a entrare nella posizione di Zuzwan reciproco che abbiamo visto sul diagramma di prima e quindi deve pensare se giocando re 6 e re C4 gli conviene entrare nella posizione con re 5 quindi la posizione in cui il re bianco è nei 5, il re nero è in C4 e a questo punto abbiamo la posizione di Zuzwan reciproco con mosso al nero e se non ci fossero i pedoni la partita sarebbe vinta dal bianco. Ma a questo punto il bianco prima di giocare F5 deve stare molto a porto perché deve valutare cosa succede perché ci sono i pedoni quindi ci sono altri pedoni che sono i pedoni A3H2 e A7H6 quindi deve valutare se la presenza delle mosse di pedoni gli consentirà una volta isarite quelle essere ancora nella posizione di Zuzwan reciproco che abbiamo visto prima con mosso al nero e a questo punto bisogna valutare tutte le possibilità dei pedoni. Però in quel caso qua è abbastanza facile pensare ai pedoni, alle mosse a disposizione perché si vede che dal punto di vista della posizione il pedone A3 è duale al pedone H6 perché il pedone A3 si trova in terza traversa e il pedone H6 anch'esso in sesta quindi si trovano, sono diciamo duali e la stessa cosa può essere detta dai pedoni H2 e A7. Quindi essendo duali se la mossa tocca al nero basta che il bianco risponde in modo accurato e alla fine si arriva nella posizione di Zuzwan reciproco però con mosso al nero e il bianco vince la partita. Il ragionamento che ho fatto non varrebbe per la posizione che vediamo sopra di me sulla destra in cui il pedone invece di essere in H2 è in H3. A questo punto la posizione dei pedoni non è più simmetrica e a questo punto il bianco deve stare molto attento a giocare F5 perché in quel caso qua giocando F5 pedone prende, re prende, re B5, re E6, re C4, re E5. A questo punto le mosse di pedone farebbero arrivare il nero nella posizione di Zuzwan reciproco con la mossa al bianco proprio perché il pedone si trova in H3. Quindi quella piccola differenza di pedoni fa sì che la mossa F5 è sbagliata in un caso mentre giusta nell'altro. Quindi nella posizione che si è realizzata in partita Smith a questo punto ha giocato F5 perché ha fatto il ragionamento e adesso vediamo com'è andata la partita. Quindi Smith ha giocato F5, ha preso, re mangia, a questo punto re B5, re E6. Ricordo che se il bianco avesse giocato re E5 sarebbe stato il nero a raggiungere con re C4 la posizione di Zuzwan reciproco con mosso al bianco e quindi il bianco si trova in Zuzwan e quindi perderebbe la partita. A questo punto il bianco deve giocare la corretta re E6, attacca il pedone di 5, il nero se non vuol perdere immediatamente deve giocare re C4. A questo punto il bianco raggiunge la posizione di Zuzwan reciproco con mosso al nero, quindi è il nero che si trova in Zuzwan e a questo punto vediamo le mosse di pedone che ha a disposizione. Il nero deve muovere i pedoni e il bianco dovrà muovere in modo accorto a seconda delle mosse di pedone che fa il nero. Quindi se come in partita il nero gioca re e il pedone H5, a questo punto il bianco deve muovere il pedone, cioè il pedone diciamo duale del pedone H5 e giocare il pedone che era il pedone H3 in H4. A questo punto in funzione anche qua il nero ha giocato A5 e qua il bianco ha giocato H4. A questo punto la posizione è... i pedoni sono bloccati, la posizione è di Zuzwan reciproco, ma tocca al nero, quindi è il nero che si trova in Zuzwan, è costretto a allontanarsi, il bianco mangia e il finale di pedoni è vinto perché il bianco da matto con donna di uno. Quindi abbiamo visto che l'evalutazione dello Zuzwan che in presenza di pedoni che hanno mobilità deve essere molto attenta. Vediamo adesso l'esempio di cosa sarebbe successo se con il pedone in H3, se fosse stato il pedone in H3, quindi a questo punto la domanda è si può giocare F5 e vincere? No, perché la posizione dei pedoni non consente di arrivare in posizione di Zuzwan reciproco. Quindi in quel caso qua F5 sarebbe stato un grosso errore perché non avrebbe consentito al bianco di vincere dopo il seguito o meglio avrebbe dovuto il bianco in quella posizione qua non andare a giocare Re6, ma avrebbe dovuto giocare ReG6 e pareggiare. Il bianco sarebbe entrato nella posizione di Zuzwan reciproco ma la conformazione dei pedoni fa sì che dopo H5 il bianco potrebbe giocare a 4 e però dopo H6 oppure la spinta H4 il bianco deve muovere il pedone, il nero spinge e si arriva a una posizione di Zuzwan reciproco commosso al bianco, quindi il bianco si trova in Zuzwan, deve muovere, deve allontanarsi il pedone e perde la partita, quindi deve giocare ReF4, mangia e perde la partita. Quindi vediamo che in uno scenario apparentemente uguale in un primo caso F5 è la mosse migliore, ci sono anche altre mosse che vincono tipo ReH5 oppure A4 ma F5 è la migliore. Nel diagramma di destra F5 sarebbe un grosso errore perché in un caso giocando ReG6 nella posizione dopo F5 presa, quindi in questa posizione qua si arriverebbe con ReG6 alla patta con il seguito di pedoni che vanno contemporaneamente a donna, però se il bianco avesse sbagliato come abbiamo visto e avesse giocato come nell'esempio di sinistra Re6 avrebbe perso la partita perché avrebbe il nero raggiunto la posizione di Zuzwan reciproco commosso al bianco e quindi avrebbe vinto la partita al nero. Quindi vedete come un piccolo dettaglio comporta o la vittoria o la patta o sconfitta la posizione. Vediamo adesso un bellissimo esempio di Zuzwan reciproco. Anche qua vediamo che in quella posizione qua di destra c'è lo Zuzwan reciproco e nel caso della posizione di sinistra lo Zuzwan reciproco porta alla vittoria di uno dei due contendenti. Perché porta la vittoria di uno dei contendenti? Perché c'è la presenza di altri due pedoni. Mentre se non ci fossero stati due pedoni la posizione avrebbe, lo svantaggio lo Zuzwan avrebbe fatto perdere il pedone ma non la partita. Perché vediamo come potrebbe andare la partita commossa al nero. Il nero si allontana. A questo punto il bianco mangia e a questo punto non sarebbe sufficiente il pedone in più se non ci fossero i pedoni F4 e F5 per vincere. Ma essendoci i pedoni a questo punto il re bianco va a mangiarli, va a mangiare il pedone e a questo punto vincerebbe facilmente portando a promozione il pedone F. E a questo punto sulla base di questo Zuzwan reciproco ho trovato uno studio molto interessante di cui non conosco l'autore e nel caso fosse a conoscenza vi invito a postarlo nei commenti sotto questo video. La posizione che si è realizzata della posizione sulla scacchiera è questa e questa qua è una posizione molto incentrata sullo Zuzwan e Zuzwan reciproco perché qua bisogna stare attenti che a seconda di come si muove si può entrare in Zuzwan a vantaggio dell'avversario e quindi si perde la partita. La posizione è a gioco corretto e patta, sembra che il bianco possa vincere ma il nero riesce a salvarsi per un dettaglio importante che riesce a generare sulla scacchiera. Mossa a questo punto è al nero e il nero ha un'unica possibilità per pareggiare è quella di giocare H5 perché è l'unica, vediamo un po' di variante, perché se giocasse F6 per esempio potrebbe seguire pedone prende, pedone prende e dopo G4 per esempio. Se F5 ci sarebbe G5 e dopo pedone passato che promuove, se H6 seguirebbe H4 e anche qua dopo F5 seguirebbe H5, a questo punto il nero non ha più possibilità di muovere i pedoni, deve allontanarsi col suo re dal pedone, il re mangia il pedone e vediamo che dopo si realizza un finale del tipo che abbiamo visto prima con Vittoria del Bianco. Quindi questo qua è un seguito, F6 che abbiamo visto per esempio in quel caso qua abbiamo visto che il nero su H6 gioca H4, se invece di H6 il nero avesse giocato per esempio F5, il bianco poteva giocare, nel caso qua G5, dopo spingere i pedoni e via dicendo. Quindi la mossa H5 è la migliore ed è l'unica che conduce la patta, proprio per le tipologie di varianti che abbiamo visto. A questo punto tocca il bianco, il quale bianco anche lui un'unica mossa perché sennò perderebbe la partita e l'unica mossa che deve giocare è H3. Perché deve giocare H3? Perché se giocasse H4 a questo punto il nero potrebbe portarlo in Zuzvan giocando G5, il pedone prende e dopo H4 è il bianco che si trova in Zuzvan perché se spinge G3 il pedone H va a promozione. Se spinge il pedone G5 viene mangiato e comunque propone dopo il tratto al bianco che deve giocare o F3 o G3. Se spinge F3, il pedone prende, il pedone prende e il pedone va a promozione. Quindi deve stare a corto il bianco a giocare H4. Oppure nella posizione deve stare a corto non giocare H4 così come deve stare a corto non giocare F3 perché dopo F3 segue presa, anche qua c'è il recupero delle mosse e dopo queste mosse il bianco si trova senza mosse, deve allontanarsi dal pedone e perde il pedone. Quindi nella posizione dopo H5 del nero bisogna per forza che il bianco giochi H3 per cercare di vincere e non perdere. Quindi è l'unica possibilità che ha. Tocca al nero e a questo punto il nero anche qua ha un'unica possibilità di mossa che è F6 perché se giocasse F5 giocherebbe il bianco H4 e dopo queste mosse, i pedoni hanno finito le mosse, deve muovere il nero e quindi si trova in zuzzer e non ha mosse utili per salvargli la partita. Quindi torniamo indietro alla posizione in cui deve giocare F6 che alternative potrebbe giocare il nero invece F6 che comunque sono sbagliate, il nero potrebbe giocare per esempio G5 però dopo G3 questa, questa, a questo punto anche qua si trova in una posizione di zuzzwang in cui non ha mosse utile, deve allontanarsi dal pedone con Re e perde la partita. Vediamo un'alternativa ad H3 che è la migliore come dicevo, G3 abbiamo vista, a questo punto, no G3 non l'abbiamo vista, abbiamo visto F3, abbiamo visto H4, supponiamo G3 a questo punto, un seguito potrebbe essere questo, H3, che porta alla vittoria del nero a questo punto perché la mossa al bianco e deve allontanarsi dal pedone quindi su F5 deve mangiare, quindi G3 F5, quindi abbiamo visto che G3 è sbagliato perché su F5 e non mangia, gioca H3 e perde, però perderebbe anche se mangia perché dopo presa e questo è mossa, a questo punto il bianco non ha più mosse e quindi entra ancora in una posizione di zuzzwang. Quindi abbiamo visto che anche G3 perde dopo F5 sia con H3 che per F6 e a questo punto l'unica possibilità per il bianco è giocare dopo H5-H3. A questo punto tocca al nero e a questo punto l'unica mossa che può fare per cercare di pareggiare F6 perché se non facesse F6, per esempio giocasse F5 il nero, seguirebbe H4, posizione di zuzzwang, il nero deve allontanare il re e il bianco mangia il pedone e vince. Abbiamo visto la mossa giusta F6, abbiamo visto F5 che è sbagliata, vediamo G5 che è sbagliata, G3 spinge, spinge, zuzzwang, tocca al nero, deve allontanarsi con il re o spingere il pedone F7, quindi H3 unica, F6 unica, però supponiamo che il nero giochi H4, che è sbagliata, dopo H4 segui G3, il pedone prende, il pedone prende, prende, prende e il pedone H va a donna. Quindi bisogna per forza giocare per il nero F6 unica mossa e anche qua il bianco ha un'unica mossa per cercare di vincere la partita che è H4, se no perderebbe, quindi se non giocasse H4 e magari prendesse, a questo punto è il bianco che perde perché dopo H4 seguirebbe F5 e dopo G3 seguirebbe F5 e se invece di giocare dopo F6 giocare H4 unica prendesse, seguirebbe questo seguito, abbiamo visto H4 sbagliato, se facesse F3 potrebbe seguire, prende, prende, anche qua H4 e dopo questa, questa, ed è il bianco che perde perché tocca a lui e non ha modo e ci trova in zuzza, quindi un'altra posizione di zuzza. Quindi dopo F6 bianco giocare H4 unica e dopo a questo punto tocca al nero deve giocare unica F per E5 perché se spingesse, a questo punto il bianco vince giocando F4 con i due seguiti, presa, presa, questa, 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 spinge, G per F5, zuzza, un'altra posizione di zuzza in cui tocca al nero, in cui tocca al nero di allontanarsi e prende il pedone, invece di, a questo punto dopo H4 abbiamo visto F5 che perde, vediamo un'altra variante, abbiamo visto dopo questa se il nero invece di prendere, come abbiamo visto, giocasse G6, segue G3, anche qua un'altra posizione di zuzza. Quindi il nero deve prendere e a questo punto tocca al bianco che deve giocare anche qua un'unica mossa che se no perde, ed è la mossa è G4, perché se giocasse G3 il nero giocherebbe G6 raggiungendo la posizione di zuzza, la posizione di zuzza commossa al bianco ed allontanarsi al pedone perde il pedone. Quindi il bianco deve giocare G4 e a questo punto tocca al nero, anche qua il nero ha un'unica possibilità perché se dopo G4 prende il pedone il bianco gioca H5 e vince, perché dopo G5 o spinge il pedone e vengono mangiati oppure c'è la promozione. E a questo punto l'unica mossa che abbiamo detto che ha il bianco e il nero è non prendere, neanche giocare G5, perché qua se G5 il pedone prende e a questo punto arriverebbe a promozione prima il bianco e vincerebbe. Quindi dopo G4 l'unica mossa per il nero è G6 e dopo G6 il bianco ha l'unica mossa da giocare G5 perché se prendesse il pedone H5 perderebbe perché il nero prenderebbe, quindi dopo quel seguito qua la posizione è di Zuzwan reciproco con mossa al bianco che perde. Quindi dopo il nero al bianco deve giocare G5 e a questo punto sembra che vinca il bianco perché si raggiunge una posizione in cui si trova il nero in Zuzwan perché è tutto bloccato, si trova in Zuzwan e deve muovere il re e quindi perde il pedone. Però il nero per la conformazione di pedoni che ha raggiunto dopo aver giocato dei migliori riesce a trovare nella posizione che si realizza sulla scacchiera una risorsa notevole che si attiva o giocando re b6 o giocando re d6 mentre sarebbe sbagliata re c6. Vediamo il perché. perché a questo punto dopo re t6 e qua sembrerebbe che il bianco vinca facilmente perché prende il pedone però il nero gioca re c6 e dopo pedone spinge ha una risorsa incredibile che è re d5. a questo punto la posizione è facilmente patta perché o re va in b5 patta pestallo o re si allontana e il nero mancia il pedone c5 quindi la posizione finisce patta. vediamo dopo g5 del bianco che se il nero non avesse colto l'opportunità di giocare come abbiamo visto re d6 duale sarebbe re b6 ma giocasse re c6 a questo punto la partita è persa perché non c'è più la risorsa di farsi trovare in c6 con re quando il pedone spinge. in quel caso qua il bianco vincerebbe con quel seguito qua perché a questo punto giocherebbe re qua quindi non gli consente di andare in d5 a questo punto la posizione è abbastanza vinta facilmente dal bianco perché gli mancia tutti i pedoni. potrebbe essere un seguito plausibile a questo punto re mangia il pedone g6 e conduce il pedone g5 in promozione. direi che questo esempio di questo studio è notevole dal punto di vista dello zuzwan perché ci sono una molteplicità di zuzwan reciprocici che possono far passare la posizione da vinta o persa se non si gioca in modo corretto e nel modo più corretto possibile la posizione conduce a una posizione di pat. con oggi è tutto spero che sia stato interessante vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video ciao ciao